Vittoria e aggancio al primo posto in classifica. Il Casarano fa sul serio e lo ha dimostrato nel 3-0 rifilato allo stadio Tonino D'Angelo contro l'ambizioso team Altamura. I Salentini passano in vantaggio nel primo tempo con Burzio, poi dilagano nella ripresa con Vito Francesco. La squadra di Costantino balza così al comando del Gironi H in compagnia di Brindisi e Fasano, battuta d'arresto per il team di Ginestra dopo quattro risultati utili di fila. Il primo tempo vede subito un Casarano più arrembante rispetto ai Murgiani. Al sedicesimo Rizzo prova ad inventare in aria avversaria ma la difesa altamurana è attenta e mette in angolo. Ospiti pericolosi anche al ventiduesimo sui sviluppi di un calcio piazzato, team Altamura che tira un sospiro di sollievo. Alla mezz'ora Gatto si propone in fase offensiva, conclusione che non sorprende Spina. Un minuto dopo arriva il vantaggio del Casarano a firmarlo e Burzio 1-0 che persiste sino all'intervallo. Nella ripresa il team Altamura vuole il pareggio e aumenta i giri del proprio motore. All'undicesimo proteste dei Murgiani per un presunto fallo da rigore su Molinaro. L'arbitro lascia proseguire al diciottesimo. Lo stesso Molinaro spara alto su invito dalla destra. Di Sosa, ancora Sosa, un minuto dopo è protagonista di un colpo di testa che per poco non trova il pari. Nel miglior momento dell'Altamura il Casarano firma il raddoppio d'Angelo Gelato dal 2-0 targato Vito Francesco. La reazione altamurana non manca. Al trentunesimo ancora proteste dei padroni di casa in area salentina. Questa volta a cadere giù è bolognese. Anche qui il direttore di gara non assegna il penalty. Al trentasettesimo ci riprova Sosa, sempre di testa, la palla finisce al lato. Al quarantatresimo arriva la parola fine sul match. Vito Francesco sfonda da destra e insacca la rete del 3-0 per il Casarano. Doppietta e gol che congele il tabellino. Prima del fischio finale, al quarantottesimo, il team Altamura cerca la rete della bandiera sul calcio d'angolo. Ma carotenuto nega la gioia del gol a Schiavino. Finisce così. Domenica prossima il Casarano ospiterà il Capozza, la fragolese, team Altamura di scena a Martina Franca.